Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, precisamente in via Dallò Alfieri, tra via Giusti e via Cape Celatro. Una zona di estremo degrado purtroppo, una di quelle estreme periferie di Taranto, pur essendo una zona comunque centrale, perché stiamo a poche centinaia di metri da via Dante. Da un po' di tempo a questa parte stiamo sottolineando, vi stiamo denunciando le situazioni di degrado, di inciviltà assoluta e vi vogliamo mostrare un po' di situazioni. Guardate qui c'è proprio una discarica, lo vedete a cielo aperto, ci sono rifiuti, materiale ferroso e quindi una situazione che sembra quasi una terra di nessuno. Nel senso che chi abita in queste zone e compie atti di inciviltà si sente, come dire, superiore alla legge a tal punto da non rispettarla. E quindi vi abbiamo mostrato questo materiale ferroso vicino ad un tre ruote, ma a pochi metri da questa discarica a cielo aperto perenne. Guardate cosa c'è qui, una serranda, una saracinesca che è completamente rotta. Non sappiamo cosa ci sia all'interno, certamente sporcizia e quant'altro, ci sono rifiuti, perché poi evidentemente questa serranda rotta fa sì che gli incivili vadano a gettare di tutto di più. Infatti si vedono numerose bottiglie. Una situazione di estremo degrado. Degrado inciviltà. I cittadini che compiono questi atti, e stiamo parlando, lo ripeto qui in via Dallò Alfieri, tra via Capecelatro e via Giusti, chi compie questi atti è un grande incivile. Non voglio colpevolizzare tutta la zona, perché certamente ci sono persone per bene, però c'è una grossa fetta di incivili. Questi incivili vanno puniti, vanno sanzionati senza misericordia. Bisogna dare l'esempio, bisogna insegnare la civiltà, bisogna punire chi si macchia di certi scempi veri e propri. Guardate qui, ma soprattutto la cosa che più mi fa specie è vedere questo materiale ferroso, questi rifiuti, c'è un lavandino, ventilatori, altro materiale di ogni genere vicino ad un tre ruote, qui, guardate se è possibile una cosa del genere. Un tre ruote abbandonato, forse non c'è neanche la targa e guardate un po' in che situazione si vive qui. Una situazione indecorosa. E' il caso di intervenire molto presto. Dovete rimuovere i rifiuti. Ebbene, più rifiuti di quelli e vengono a caricare. Va bene, da parecchi giorni stanno così. Va bene, va bene. Comunque, ecco, in presa diretta vedete quello che accade. Allora bisogna sanzionare certi comportamenti. Non venitemi a parlare di fascismo, squadrismo e quant'altro. Qui esiste la legge e la legge si rispetta. Perché chi vive in questa zona, e ci sono tante persone per bene, devono vivere in una situazione di civiltà. Non in una discarica a cielo aperto. Non in un porcile. Questa è la verità. E allora bisogna sanzionare. Bisogna dare l'esempio. Bisogna dare in testa a questi malfattori. Parlo di ILVA, parlo di tanti problemi. Ma ora è anche il caso di incentrare l'attenzione sulla vivibilità urbana. Perché quando l'amministrazione comunale sbaglia è giusto, come dire, censurare gli errori dell'amministrazione. Ma quando c'è il cittadino incivile, che si comporta da mascalzone, da porco, scusatemi l'espressione forte, va punito. Occorre usare il pugno duro nei confronti di questa gente. È tutto da via Alfieri, tra via Cape Celatro e via Giusti.